Prima l'ha minacciata con un coltello alla fermata dell'autobus, poi l'ha trascinata verso il bagno nel retro del chiosco della piadineria per gettarla a terra con l'intento di consumare una violenza sessuale. Tutto questo è avvenuto in un pieno centro storico a Pesaro, in piazzale Matteotti. L'episodio si è verificato intorno alle 5 della mattina di lunedì. L'aggressione sarebbe stata condotta da un trentenne originario del Bangladesh, residente nella città di Vallefoglia, ai danni di una donna di origini sudamericane intorno ai 45 anni d'età. Quest'ultima, nel tentativo di liberarsi dalle violenze dell'uomo, avrebbe iniziato a urlare e a chiedere aiuto. Così alcuni residenti della zona, sentendo le grida della donna, hanno contattato i carabinieri, che giunti sul posto hanno intercettato l'uomo ancora intento a forzare un atto sessuale con lei, che però, grazie all'intervento dei militari, non è riuscito a consumare. Ora è accusato di violenza sessuale ed è stato arrestato in non fragranza di reato.